Ho visto che davi dei consigli a un tuo compagno che ti porterà via il posto. Questo vuol dire che potresti diventare un buon allenatore. Cerca la qualità, cerca la qualità. Devi divertirti, devi uscire fuori dal spettacolo. E' un balletto questo. Questo lo portiamo poi alla scala di Miano. Non lo faremo all'interno di ballerina. Io non devo giocare la partita di domenica prossima. Devo giocare la partita che conta e quella che giocherò fra due o tre anni. Su quella partita io puntavo. Sono queste le soddisfazioni della vita. Il resto è niente. Il resto è un buon allenatore. Il resto è un buon allenatore. Il resto è un buon allenatore. Grazie a tutti.